Sì, settimana della cultura, un grande successo, i laboratori aperti anche al pubblico. Oggi abbiamo avuto tantissimi ragazzi, giovani, studenti, scuole superiori di Reggio Calabria, con grande entusiasmo, vedere l'Accademia così viva, questi laboratori aperti, per noi docenti è un grande successo, una grande soddisfazione. E avere l'Accademia così dinamica, è un'Accademia giovane, stiamo portando avanti un grande successo, perché sarà un'Accademia sempre per il territorio, rivolta al territorio. Quali sono le attività principali della settimana della cultura e perché è così importante per l'Accademia? La settimana della cultura è importante per noi perché è anche un confronto di tutti questi mesi di lavoro nei laboratori. In questa settimana mettiamo a frutto queste esperienze che i ragazzi fanno durante le lezioni. Quindi per noi è molto importante perché è anche un punto della situazione di questi mesi di lavoro che precedono sempre la settimana della cultura.